abbiamo fatto la prima tappa abbiamo fatto la prima tappa sono felice la giuria ha scelto mi sembra molto bene poi valuterò valuterò nei dieci giorni se sono veramente se saranno le marie del 2022 sono felice quest'anno poi appunto che siamo in presenza l'abbiamo fatto e adesso iniziamo il 19 con la vestizione trucco e parucco e poi una sorpresa nemmeno loro lo sapranno e non lo sapete neanche voi sono sicura che anche per loro sarà una festa delle marie gioiosa e felice e se la ricorderanno come dico per tutta la vita come le altre una cosa che dice una mia ex maria elisa che marie si è tutta la vita grazie 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 grazie